Ultime ore drammatiche nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso, due decessi, ancora due molisani che ci lasciano troppo presto. Aveva 52 anni l'uomo di Torella del Sagno stroncato dal Covid. Lo staff del dottore Romeo Flocco ha tentato fino all'ultimo di salvargli la vita ma non c'è stato nulla da fare. E' deceduta in rianimazione anche una 64enne di San Giuliano di Puglia ma residente da anni a Santa Croce di Maiano. Sui social il cordoglio dei sindaci Giuseppe Ferrante e Alberto Florio. Era ricoverato in malattie infettive invece l'ottantenne di Campomarino che non ha vinto la battaglia contro il coronavirus. E' morto invece nella sua abitazione un 74enne di Agnone e così i decessi per Covid in Molise diventano 444 di cui oltre 90 negli ultimi 30 giorni, 400 negli ultimi 5 mesi. Molise risparmiato dalla prima ondata della pandemia con 10 morti a marzo 2020, 11 ad aprile e 1 a maggio e giugno, poi 0 decessi a luglio e agosto, 1 solo a settembre, 16 a ottobre travolto dalla seconda con numeri tragici, 80 morti a novembre, 72 a dicembre, 76 a gennaio, 84 a febbraio e più di 90 morti negli ultimi 30 giorni. In malattie infettive 4 ricoveri e 5 dimissioni, 69 gli ospedalizzati, 14 in rianimazione. Scende il tasso di positività al 5,8%, il precedente era 9,8, 33 positivi, 5 a Riccia, 3 casi a Baranello, Campobasso, Campomarino e Toro, su 562 tamponi rifertati, 846 i casi attualmente positivi, 3.979 i soggetti in isolamento, infine i vaccini, raggiunta quota 68.344 con la somministrazione del 92,45% delle dosi consegnate.